Allora, buonasera, siamo nella notte tricolore di Torino con Odiglia Negro, adesso cerco di inquadrarti in modo che non ci sia troppo riflesso dagli occhiali. La rete dei comuni solidali è i 150 anni, dici qualcosa. La rete dei comuni solidali rappresenta 270 comuni dalla Valle d'Aosta a Lampedusa. Il nostro pensiero sui 150 anni sta nelle nostre corde, il fatto stesso di essere rappresentati in tutta Italia già significa che i 150 anni per noi sono importanti. Noi li abbiamo iniziati a festeggiare a Teano a ottobre con un grande convegno che abbiamo promosso come rete insieme a molte altre reti italiane. Abbiamo prodotto in quell'occasione una bella camicia garibaldina che speriamo indossino da tutte le parti. Che io ho comprato questa sera a prezzo agevolato. A prezzo agevolato, certo, a favore di Recosol. Che dire, noi pensiamo che il filo che unisce tutti i comuni che fanno cooperazione internazionale, che sono i comuni di Recosol, sia un filo che va ben oltre il confine della nostra amata Italia, che è un'Italia in cui tutte le nostre comunità si festeggiano i 150 anni insieme alle altre comunità che sono arrivate nel nostro paese, che si sono integrate magari con un po' di fatica, ma che si sono comunque integrate bene e con le quali noi lavoriamo e collaboriamo costantemente. In questo momento il nostro pensiero è chiaramente per un comune Recosol che è Lampedusa, che è la porta aperta verso il Mediterraneo. Che fa parte della vostra rete proprio? Sì, certo, Lampedusa è Recosol e siamo molto orgogliosi di questi, come molti altri comuni del sud Italia, in Sicilia, in Calabria, pensiamo al comune di Riace, il comune virtuosissimo che ha fatto della bandiera dell'accoglienza e dell'integrazione, dell'ospitalità, la sua mission fondamentale. Noi pensiamo che essere Recosol per un comune piccolo o piccolissimo come molti dei nostri comuni sia automaticamente essere tutti insieme e pensare ad un'Italia che non può che essere un'Italia.